Siamo con Giuseppe D'Aprile, segretario generale Wille Scuola. Buongiorno D'Aprile. Buongiorno a voi, grazie. Allora, D'Aprile è un momento di fine 2022 per la scuola molto importante. Si sono appena accordati i sindacati, anche la Wille Scuola, presso l'Aran da qualche settimana per il rinnovo contrattuale del comparto per gli anni 2019-2021. In questi giorni è prevista l'assegnazione degli arretrati. Com'è la situazione d'Aprile? Ricordo a tutti che un contratto per 1.200.000 persone è l'intero comparto che è fatto non solo dalla scuola, dall'AFA, ma dall'istituzione alla ricerca. Io l'ho definito un primo passo, un primo passo che ha visto appunto in questi giorni accreditare o comunque visualizzare sui cedolini stipendiali dei lavoratori della scuola la cifra. Ci sono state anche delle proteste, questo dobbiamo dirlo, nel senso che ci si aspettava una cifra superiore. Noi abbiamo deciso di sottoscrivere questo contratto, noi l'abbiamo sottoscritto, io difendo la nostra firma e spiego perché l'abbiamo sottoscritto. Un contratto che ha visto la risoluzione positiva in due giorni, in un momento difficile per l'Italia intera, ricordiamo che stiamo attraversando, abbiamo un'inflazione al 10-12%, caro luce, caro bollette, caro gas, insomma un momento particolarmente difficile per l'Italia intera. Il ministro ci ha convinto con 2 miliardi di euro che comunque erano già messi da parte alle precedenti finanziarie, ha aggiunto uno stanziamento di 100 milioni di euro nel pomeriggio stesso di giovedì. Il venerdì mattina abbiamo sottoscritto un accordo che appunto ha portato a questo primo passo, ho definito io un granellino di sabbia, che comunque non ci vedrà rivendicare e chiedere ulteriori somme da stanziare in finanziaria, soprattutto per il prossimo contratto 22-24. Ecco D'Aprile, la legge di bilancio da questo punto di vista possiamo dire che è stata decisamente avara. Da parte vostra c'era Marico, lo avete già dimostrato, lo avete esplicitato. I patti con Val di Tara non erano questi? Abbiamo protestato con Cigelli in tutte le piazze italiane la settimana scorsa per appunto manifestare il nostro malcontento per una legge finanziaria che sostanzialmente da noi è definita una continuità negativa con il precedente governo. Nulla sul reclutamento, nulla sulla mobilità, nulla sulla valorizzazione del personale, nulla sul precariato, nessuno stanziamento in finanziaria se non una somma esigua di 150 milioni di euro. Abbiamo chiesto al Ministro di avere più coraggio, tirare la scuola fuori dai vincoli di bilancio, fuori dal patto di stabilità. Potrebbe il Ministro lasciare il segno finalmente e non risparmiare sulla scuola? Bene, D'Aprile, nel contratto voi adesso avvierete, perché è stato assiglato un contratto per la parte economica, avvierete una trattativa per quanto riguarda la parte normativa. Quali sono le richieste che porrete presso l'Aran per anche adeguare il contratto a tutto quello che è accaduto nell'ultimo periodo, in particolare con la pandemia del Covid? In effetti la vera novità di questo contratto è che è stato deviso in due. Abbiamo sottoscritto la parte economica, adesso abbiamo già iniziato presso l'Aran negli incontri per la parte normativa. La vera novità sta in questo, in questo contratto andremo a contrattualizzare istituti giuridici che prima non erano presenti. La mobilità, la valorizzazione del personale, lo smart working per il personale ATA, i vincoli anche sulla mobilità, le relazioni sindacali, tutto quanto non era presente nel contratto collettivo nazionale del lavoro. Abbiamo iniziato gli incontri, siamo già al quarto incontro, adesso ci siamo fermati per le vacanze di Natale, riprenderemo il 10 gennaio. Quindi riportare nel contratto collettivo nazionale del lavoro istituti giuridici che non erano presenti in esso, ci porterà forse, se siamo bravi anche con l'amministrazione, a risolvere problemi che attanagliano il mondo della scuola e che sono venuti fuori, come diceva lei, durante il Covid. Uno di questi, per esempio, mi sento di dire che è la mobilità e quindi attraverso la sequenza contrattuale risolvere quelli che sono i vincoli destinati alle persone che si vogliono trasferire e oggi ancora non possono farlo. A proposito della mobilità, vi sembra che c'è da parte dell'amministrazione un piglio diverso, una maggiore apertura a quelle che sono le vostre richieste, le richieste di tutto il mondo della scuola, di far abbattere i vincoli, soprattutto per i neo-immessi ruolo. Qual è la situazione in due parole? Premetto che nessun vincolo è giusto. L'amministrazione ha dimostrato in questo una non continuità col precedente esecutivo, quindi c'è da parte del Ministro una volontà di svincolare, quindi di permettere alla persona di trasferirsi e operare la mobilità, anche con lo di quale ne ho messi il ruolo. Abbiamo rinunciato proprio ieri alla continuità del contenzioso, ricordo a tutti presso il Tribunale, l'amministrazione era stata condannata per atteggiamento antisindacale, abbiamo rinunciato ad andare avanti con il contenzioso, sia noi che sia l'amministrazione, appunto perché si intravede uno spiraglio sulla mobilità, una risoluzione che avverrà o per via legislativa o per via contrattuale che permetterà a tutti di muoversi e anche, ripeto, ha messo il ruolo nel 2022-2023. Quindi anche dal prossimo anno si presume che questo... Dal prossimo anno e solo per il prossimo anno, poi il tempo vedrà come risolvere le cose per gli anni che verranno. Io credo che sia indispensabile anche un adeguamento legislativo o basterà la via contrattuale? Dipende come l'amministrazione vorrà risolvere il problema della mobilità che viene da un provvedimento legislativo, la DL36, che blocca appunto questi movimenti. Io ritengo attraverso un provvedimento legislativo che poi verrà recepito nella sequenza contrattuale. Tutto si risolverà comunque nei prossimi giorni o comunque subito dopo le vacanze perché siamo prossimi appunto alla mobilità per l'anno prossimo. Quindi le domande dovranno essere inoltrate per cui questo problema dovrà essere risolto. Noi siamo fiduciosi e sinceramente anche l'amministrazione l'abbiamo vista molto volenterosa in una risoluzione positiva della controversia, se vogliamo. Bene, questa è una notizia positiva per tanti docenti che ricordiamo sono stati in qualche modo obbligati anche da un algoritmo molto discutibile ad allontanarsi dai loro affetti e si ritrovano in qualche modo bloccati a centinaia di chilometri da casa. Un algoritmo che ha penalizzato anche i supplenti, se di algoritmo parliamo. Certo. Non solo la mobilità. Capitolo supplenti. Voi avete presentato una proposta ufficiale, tra l'altro anche risolutiva per quanto riguarda il precariato. Ricordiamo che ogni anno, anche quest'anno, sono stati sottoscritti oltre 200.000 contratti a termine, fino al termine dell'anno scolastico al 31 agosto del 2023. Ci può riassumere questa proposta e perché il Ministero dovrebbe prenderla in considerazione? Il sindacato che rappresento, lei lo sa, partecipato al nostro congresso non si limiterà solo ad elencare i problemi della scuola ma proporrà delle soluzioni. Quindi saremo propositivi e costruttivi. Per quanto riguarda il precariato, la scuola non può permettersi 250.000 precari perché ne va soprattutto la continuità didattica delle persone, degli alunni e degli adolescenti che la frequentano tutti i giorni. Abbiamo dato la soluzione al Ministro e mettere in ruolo 252.000 precari trasformando l'organico di fatto in organico di diritto che ha un costo zero che non solo aiuterebbe le persone a una maggiore stabilizzazione ma metterebbe in moto l'economia e poi l'organico di fatto in organico di diritto permetterebbe anche una mobilità più semplice tra diverse regioni italiane. Questo ha un costo di 180 milioni di euro. Il volume della finanziaria per capirci è di 35 miliardi prendere 180 milioni e stabilizzare 252.000 precari una somma che cada uno ammonta a 700 euro. Questa è una rivendicazione del nostro congresso l'abbiamo inviato al Ministro con tanto di tabelle che non abbiamo fatto altro che verificare quanto si spende licenziare un precario il 30 giugno e riassumere il 2 settembre con il pagamento della Naspi e abbiamo fatto una sorta di compensazione. Ogni precario costa 700 euro la soluzione gliel'abbiamo dato al Ministro se c'è la volontà adesso l'esecutivo ce la dovrebbe dimostrare. Una volontà che dovrebbe passare anche per l'assunzione dei precari storici con 36 mesi di servizio svolto? Questa è... passiamo alla valorizzazione del personale una valorizzazione del personale che deve avvenire attraverso anche la valorizzazione di un'esperienza pregressa. Abbiamo precari storici non solo tra il personale docente ma anche tra il personale ATA. Per esempio penso ai cosiddetti facenti funzione cioè assistenti amministrativi che hanno svolto il ruolo dei DSGA per tanti anni, così i docenti che hanno 7, 8, 10 anni di precariato. Questa esperienza non la possiamo polverizzare. La dobbiamo valorizzare e quindi immettere in ruolo queste persone che non solo risolverebbero il problema personale ma risolverebbero il problema della scuola perché volendo annulere queste persone precari storici vengono assunti e fanno funzionare le scuole. A questo aggiungo che spesso e volentieri sono stati umiliati come sono stati bocciati ai concorsi ordinari e straordinari ma nello stesso tempo vengono mantenuti in graduatore perché vengono utilizzati per le supplenze. Allora un cane che si morde la coda non bisogna essere contraddittori. Se queste persone valgono devono valere fino alla fine quindi abbiamo il dovere di assumerli e questo sindacato farà di tutto per perorare anche questa causa. Io spenderei anche due parole per il personale di ruolo che lavora per la dirigenza scolastica. Si parla da anni di middle management applicato alla scuola non se ne è mai fatto nulla. Qual è la posizione della Will Scuola? Sono quelle figure che vengono introdotte senza un confronto con le parti sociali diciamo che non è una posizione di netta contrarietà ma noi ci siamo espressi nel merito dicendo che esistono altri problemi atavici della scuola che andrebbero risolti per poi pensare a quelli che sono l'introduzione di nuove figure al docente tutor, al middle management sono figure all'atere. I problemi della scuola sono tanti, importanti e diversi. distrarsi da altri problemi che risolverebbero l'1% dei problemi atavici della scuola non è il compito di questo sindacato. Una scuola 4.0 comunque andiamo verso una scuola 4.0 non si può permettere un precariato così numeroso non può avere una sicurezza così latente così infatiscente non può avere il personale retribuito in questo modo e quindi valorizzato poco valorizzato. Poi tutto il resto possiamo aprire un'ampia discussione nel merito ma non è questo il momento oggi abbiamo bisogno di interventi concreti strutturati nel tempo che sicuramente non sono né il middle management né la focalizzarsi sulla circolare sui cellulari che sono cose importanti ma che ci fanno perdere di vista quelli che sono i veri problemi della scuola statale di questo paese. Un'ultimissima ad aprile sarebbe importante anche ridurre il numero di alunni per classe? Personalmente ho dichiarato che in finanziaria c'è un provvedimento che ci fa come dire io ho definito il ministro poco lungimirante in questo in finanziaria abbiamo notato che ho oltre 70 milioni di euro già stanziate dal governo Draghi il ministro ha aggiunto altri 30 milioni di euro per le scuole private di questo paese per aiutare le scuole private che durante la pandemia hanno perso gli alunni noi diciamo di non diciamo di non aiutare le scuole private ma diciamo lo stesso modo di aiutare la scuola statale invece sulla scuola statale cosa si fa? Invece di approfittare del calo degli alunni per ridurre il numero delle classi mantenendoli uguali e portarlo a un numero che faciliterebbe anche le lezioni 18-20 persone cosa si fa? Si tagliano le scuole si accorpano gli istituti si perdono le dirigenze scolastiche i posti da DSGA assolutamente come il ministro ha pensato di aiutare la scuola privata così dovrebbe pensare di aiutare la scuola statale quindi approfittare del calo degli alunni per trasformare di una penalizzazione appunti in un'opportunità però per concludere il prossimo anno si continueranno a comporre le prime classi da 27 alunni almeno le superiori e questo insomma non crediamo possa fare né il bene della scuola né il bene della didattica noi ringraziamo Giuseppe D'Aprile segretario generale della UIL scuola grazie a voi ne approfitto per fare gli auguri di buon Natale a tutti grazie grazie a tutti grazie a tutti